Bellissima la festa del compleanno dell'autonomia, però ho lanciato un campanello d'allarme perché in Veneto abbiamo tantissime aziende, passiamo la decina, rifiuti, energia, ciclo dell'acqua, servizi che vengono dati ai Veneti da piccole realtà, non tanto piccole perché fatturano 800 milioni, un miliardo massimo, un miliardo e mezzo a GSM, IM, eccetera, e sono fiori all'occhiello, bellissime aziende tenute bene. Non possiamo competere con ERA che fattura 20 miliardi di euro, non possiamo competere con A2A che fattura 8 miliardi di euro e sono una ad oriente e una ad occidente. Quello che voglio dire io è creiamo una grande azienda veneta con i comuni, province, regioni, eccetera, e teniamo le ricchezze e i servizi dei Veneti in una holding veneta. Chiedo troppo perché è quello che ha fatto l'Emilia Romagna e quello che ha fatto la Lombardia, non è bestemmiare in chiesa, è questo.